Questo documentario secondo me è una sintesi formidabile dell'ogliastra e della longevità. Da una parte ci sono degli scienziati che raccontano come sono venuti a scoprire questa zona e seconda persona c'è la testimonianza diretta delle persone che si raccontano e quindi per mezz'ora anche coloro che non hanno mai sentito parlare degli astri di longevità faranno una full immersion come se fossero seduti a fianco a queste persone che raccontano la loro vita. Il titolo è molto ironico, il Club dei Centenari, perché di solito in club si cerca di sintetizzare un'elite di persone che fanno parte di una cerchia ristretta. Qua purtroppo non sono né i soldi, né il censo, né la ricchezza che determinano che tu ci faccia parte. È una questione di fortuna, di caso o di caratteristiche genetiche o di stile di vita. Quindi diciamo che in primo luogo c'è questa ironia. È un documentario costruito sulle testimonianze dirette di storie che magari non sono neanche tanto legate alla contingenza della longevità. Alcuni ne parlano, ma altri no. Alcuni raccontano dei racconti di vita o vedremo dei gesti che ci raccontano l'eccezionalità di queste persone. Troppe volte ho visto troupe che aggressivamente andavano a intervistarli per dire cosa mangiava, ma lei beveva, beveva un po' di vino. Quindi in un certo senso un po' scimmiette ammaestrate. Secondo me ci vuole un tipo di approccio molto più profondo. Le mie interviste sono state come se un nipote vicino al camionetto ascolta le storie del nonno. Ci sono stati delle troupe che senza rispetto entravano in 50 in una casa. Secondo me non è l'approccio giusto. La scelta di avere una troupe molto ridotta per raccontare i centenari è stata anche quella. Cioè rispettare queste persone che alla fine sono persone. Non è che mi serve solamente in quanto ai centenari. C'è tutta una ritualità quando vai a trovare i centenari. Devi sentire la famiglia che si occupa del centenario, parlarci. Quindi devi avere prima di tutto una relazione con la famiglia e capire tutte le dinamiche attorno alla casa. E quindi è la prima cosa che dicono i centenari, invitalo a lui. Cioè nel senso è una cosa culturale. Sono delle persone che comunque prima di tutto in famiglia vengono custodite come dei gioielli. E quindi questo è già molto bello, il rispetto che c'è dietro a queste persone. Ci sono delle società che in un certo senso cercano di strappare il segretario della longevità importandolo negli Stati Uniti o in altre parti del mondo dicendo ma noi questa longevità anche sarda possiamo esportarla. Secondo me no, perché non è solamente il cibo, il movimento, credere in Dio. Secondo me è anche un tipo di educazione che hanno ricevuto queste persone sin da piccoli. L'episodio più divertente dietro il club dei centenari sono le due signore di Urzulè e le due vedove che abbiamo messo a casa del sindaco, abbiamo messo queste due, la madre tra l'altro e quest'altra signora, Caterina a bere un caffè tra di loro. A un certo punto piazziamo le telecamere con tutta la troupe, tutta la famiglia e queste qua non parlavano. Come mai non parlavano? Non parlavano, c'è proprio mutismo assoluto. Allora il mio direttore della fotografia, Matteo, ha avuto lui un colpo di giro e ha detto sentite una cosa, andiamo tutti via e lasciamo le telecamere girare. Magicamente appena siamo andati tutti via loro hanno cominciato a parlare tranquilli e poi infatti hanno detto ci hanno lasciato solo puoi storiare, come dice, per parlare. Poi vabbè è un'altra storia secondo me pazzesca, è Zio Pietro Calzone di Baunei. Lui è stato incredibile perché a un certo punto gli ho chiesto di cantarmi una filastrocca, di raccontare qualcosa e lui ha cantato Saganzone di Erbaga Diaz, che poi apre proprio il documentario e quella non è nient'altro che antropologicamente un grande valore. In tutti i paesi delle montagne, o gli astrine, ma anche barbaricine, c'erano delle canzoni che in un certo senso i giovani cantavano per enumerare tutte le donne ancora libere che c'erano nel paese. Quindi loro creavano una filastrocca così sapevano chi era libera, chi non era libera, ma soprattutto che caratteristiche avevano. Vi sorprenderà e forse vi commuoverà anche questo documentario perché io ho notato che in tante proiezioni le persone si commuovevano. Grazie a tutti.